Buon salve e bentornati su No Mamamazzo Parliamo ancora di Ghostbusters, sapete che io adoro l'argomento ma non parliamo di retro movie se vi interessa comunque andate pure a vedere la mia playlist dedicata a Ghostbusters vecchi, nuovi, che dir si voglia ma parliamo del trailer di Ghostbusters 2020 Ghostbusters Afterlife che uscirà appunto l'anno prossimo vediamolo insieme per la prima volta prima volta e mezzo perché io qualcosina sul cellulare avevo già visto ma adesso me lo guardo su uno schermo un po' più grande insieme a voi così ne parliamo insieme via Allora vanno alla casa del nonno perché sono in bancarotta la famiglia della mamma di questo bambino è in bancarotta e quindi vanno alla casa del nonno che è fuori città e quindi costa meno motivo per cui presumo anche Ghostbusters non sia ambientato a New York perché costa meno girare fuori da New York ecco Paul Rudd interpreta appunto un insegnante un geologo che è esperto in terremoti non si sta spiegando queste scosse di terremoto che come epicentro hanno penso il luogo dove si è visto prima con lo strano ascensore con la fumata verde i bambini non sanno nulla perché giustamente sono passati 30 anni dal secondo episodio ok il bimbo vive con la mamma non c'è papà suo nonno è morto il bambino è chiaramente nipote di Egon vediamo lo sapevo Spengler è il nipote di Egon è uguale rendono omaggio al personaggio di Egon con la sua discendenza chiama la karma chiama la fortuna chiama la karma il mastino infernale ragazzi che figata non si è mai visto nei film purtroppo questa cosa ma è un chiaro omaggio l'omaggio al giocattolo dell'auto dei Ghostbusters che aveva una sedia sul tetto qua non c'è una sedia sul tetto c'è una sedia che esce dal 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 portellone laterale non si è vista nei film però può essere stato un implemento che è stato fatto dopo il secondo film eventualmente bellissimo l'omaggio bellissimo vedere la vera Ecto 1 scorrazzare ancora tutta tutta sporca nei campi ecco non si spiega perché è l'Ecto 1 dato che c'è stata nel frattempo l'Ecto 2 scusate l'Ecto 1A però si sa che l'Ecto 1 è quella un po' più amata dai fan ad eccezione fatta per me però può essere che l'Ecto 1A sia stata una fase di rilancio del brand Ghostbusters quando sono tornati in attività e poi si è tornati all'Ecto 1 può essere che l'Ecto 1A e l'Ecto 1 anche nella storia siano due auto diverse e che l'Ecto 1 la conservasse il nonno di questo bambino in questo fienile il nonno del bambino è chiaramente Egon è chiaramente Egon perché ci sono due ragazzi uno più alto, uno più grande e uno più piccolo il più piccolo ha gli occhialoni uguali a quelli di Harold Ramis nel film di conseguenza è palese che sia il nipote di Egon io pensavo fosse il figlio francamente pensavo fosse che avesse figliato molto tardi invece vabbè semplicemente è il nipote è più coerente con l'età dei bambini e il padre di questa madre di questa mamma di questi due bambini non c'è, non si vede non c'è dato saperlo molto probabilmente è molto meglio perché chissà che questa mamma non andrà insieme al personaggio di Paul Rudd a questo punto senza che ci faccia storcere il naso perché se fosse stata la vedova di Egon probabilmente sarebbe stato brutto invece magari così nasce anche una love story come c'è stata la love story tra Peter Venkman e Dana Barrett nei primi due film qui si virerà probabilmente sul personaggio di Paul Rudd che avrà questa love story con la madre dei due bambini probabilmente poi per il resto cosa abbiamo visto? ci sono questi due bambini che scoprono il mondo dei Ghostbusters che il nonno era un Ghostbusters che c'è stata alla fine del mondo 35 anni prima che molto probabilmente il nonno Egon in questo fenile ha una specie di dispositivo di stoccaggio per contenere dei fantasmi e qualcosa si è liberato però più di questo non si è visto molto c'è una voce fuori campo di Bill Murray che però è la voce è proprio uno spezzone registrato del primo film quando si mettono in attività però non si sa se poi ci saranno di nuovo tutti gli acchiappofantasmi con le uniformi a fermare qualcosa si è visto un mastino infernale quindi ho ragione di credere che perché dopo tutti questi anni ancora devono tornare i Ghostbusters Polorado dice che sono 30 anni che non si vedono fantasmi quindi per carità ritornano i fantasmi ritornano gli acchiappofantasmi ma si vede un mastino infernale quindi non sono semplici fantasmi qua mi sa che torna Godzer può essere che ci sia il ritorno del distruttore e dei suoi emissari che sono i mastini infernali il guardia di porta e il mastro di chiavi può essere ed è per questo che magari gli anziani Ghostbusters si rimettano le uniformi per sconfiggerli cosa che spero perché se invece è incentrato troppo sui bambini potrebbe non piacermi perché mi ricorderebbe troppo quando è uscita la seconda stagione di Stranger Things e c'erano i protagonisti con le tute da Ghostbusters e anche lì hanno un po' rilanciato diciamo la passione di questo franchise però io non seguo Stranger Things non sono proprio un amante dei bambini che fanno cose e quindi non mi sono mai cimentato in questa stagione in queste serie però credo che anche se seguissi Stranger Things che è più verso i Goonies non so se amerei vedere un film sui Ghostbusters originali con protagonisti solo o principalmente i bambini spero ci siano gli A Chiappa Fantasmi originali perché come ho detto nell'altro video in cui parlavo di questo film che uscirà dopo quello che quello strano reboot barra parodia del 2016 tutto quello che propongono legato al franchise originale ci sembra oro colato ma non necessariamente lo sarà però promette bene per quel poco che si è visto spero che non sia uno di quei trailer dove quel poco che si è visto già ci fa capire l'intero film se così fosse abbiamo visto solo dei bambini che giocano con gli zaini protonici collecto uno fuori New York non si sono visti fantasmi quindi non lo so è solo un omaggio al retaggio di Egon Spengler che come l'attore Harold Ramis a quanto capito è morto in questi anni fatemi sapere voi cosa ne pensate di questo trailer se vi ha alzato l'hype se ve l'ha abbassato se ve l'ha spento fatemi sapere se pensavate qualcosa di diverso se tuttora sperate in qualcosa di diverso scrivetemi magari sotto nei commenti qual è la vostra idea di trama per questo nuovo Ghostbusters Afterlife così vediamo chi avrà ragione chi avrà torto facciamo una specie di di scommessa no ok vediamo poi quando uscirà il cinema verremo di nuovo qui a rileggere i commenti e premierò premierò chi si è avvicinato di più alla vera trama con cosa lo premierò non lo so magari una maglietta dei Ghostbusters ve l'autografo non credo ve ne freghi un cavolo del mio autografo però qualcosa magari ce la studiamo insieme ok con questo è tutto noi ci vediamo al prossimo video alla prossima trailer reaction io sempre con l'inchino e con l'imbuto vi saluto e al prossimo video non dimenticate di andare a vedere tutta la playlist sui Ghostbusters arrivederci grazie a tutti